Quando Dio crea tutto il mondo, pensa che l'uomo riesce a stare bene soltanto con le cose materiali. Invece comprende bene, questo qua è l'animo di ogni uomo, che è necessario che per stare bene da solo non si riesce a stare, ma si sta bene quando si incontra qualcuno che è pronto a ricevere il proprio amore. Si sta bene nella misura in cui si incontra la persona che si ama e si riesce a dare tutto se stesso all'altro. E l'altro restituisce questo amore accogliendo pienamente quest'amore di un altro. Questo è il matrimonio sostanzialmente, no? Questo aprire il proprio cuore all'altra persona e farlo entrare pienamente nella propria esistenza. E l'altro restituisce questo amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo pronti, oh lei, tanti auguri! 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 Siamo pronti, oh lei! Siamo pronti, oh lei, tanti auguri! Siamo pronti, oh lei, tanti auguri! Siamo pronti, oh lei!